Durante una vacanza in Grecia il noto presentatore televisivo inglese Michael Mosley è scomparso durante una passeggiata ed è stato poi ritrovato senza vita. Mosley, 67 anni, era sparito mercoledì scorso dopo essere uscito dalla spiaggia di Agios Nikolaus sull'isola di Simi. Domenica mattina al suo corpo è stato scoperto in una zona rocciosa vicino alla spiaggia di Agia Marina durante le operazioni di ricerca. Secondo la BBC il corpo presentava già segni di decomposizione indicando che Mosley era ormai deceduto da alcuni giorni. Il cadavere è stato trovato vicino a una recinzione che circonda un locale sulla spiaggia circa 30 metri dal mare, laddove poteva essere visibile. Il sindaco dell'isola da una barca ha notato qualcosa di sospetto e avvertito i soccorritori. L'agenzia di stampa PA ha riportato che il corpo è stato scoperto dal gestore di un bar vicino che si era recato sul posto con alcuni giornalisti britannici dopo l'allarme. L'uomo ha dichiarato che nonostante le ricerche con elicotteri, i soccorritori non avevano individuato nulla nei giorni precedenti. Le autorità greche avevano mobilitato un'imponente operazione di ricerca. Ora sono in corso tutte le indagini per cercare di capire cosa sia accaduto al famoso presentatore inglese. L'Inghilterra è infatti sotto shock per la terribile notizia.